Allora, siamo alla Sceno con Matteo e Angelo, il nostro dronista preferito. Dobbiamo girare il video musicale della tua canzone che si chiama? Neve. Il nome è bello originale, molto. Beh, benissimo. Complimenti, complimenti. Siamo qui per fare le prese col drone. Ho fatto le prese col drone, è impossibile con questa neve fare le prese col drone perché è impossibile. Quindi ci vediamo il 20 quando tornerò a registrare il video. Oggi finalmente, dopo non so quanto tempo, andiamo a finire il video. Per Matteo. Nonostante tutto questo raffreddore dovremo andare alla Sceno in montagna. Spero che ci sia ancora la neve, altrimenti non so come faremo. Dobbiamo fare la prima giornata di riprese vere, oltre a quelle che abbiamo fatto col drone. Però prima devo andare a fare delle riprese per il video di Ivan, Jack Dart e il suo canale da qualche parte qui. Ok, ho finito di registrare tutto per Ivan. Ora torniamo a casa. Quindi, cosa userò per fare questo video? Il moza air. Treppiedi cinesissimo. Il 18-55 e il 50 mm Canon. Un faretto LED. Filtri ND. Batterie che non si sa mai. Esta-tè. E filtri vari. Gelatine. Cassa Bluetooth. Assolutamente, cassa Bluetooth che sta caricando. Siamo pronti. Andiamo alla Sceno. Siamo arrivati alla Sceno. Io penso che non ci sarebbe stata proprio neve. Invece, un pochino c'è. E quindi, se mi metto a fuoco, iniziamo a registrare. Abbiamo finito di fare tutte le riprese cantate. Ora dobbiamo fare solo una ripresa. Volevo fare un falò. Il problema è che non c'è il falò. Quindi, potremo questa luce calda. È sera. Butterò la velocità dell'otturatore al massimo. E lui sarà seduto qui. E poi ci metterò del fuoco in digitale. Speriamo che esce bene. Siamo sul backstage del video di Matteo. Blackface. Dov'è? Il set qui è particolare. Macchina del fumo, è lì che spursa un botto di fumo. La gente vestiva così. Luce, Young Nuo, quella lì, 300. Qua con una cannottiera per diffondere la luce. Macchina del fumo. Moza Air. 50 mm, 18-55. Un set qui. Che è successo? Pensa. Una macerata nelle palle. È brutta situazione. Questo invece è il set 2.0. Lui, let con la gelatina. Cosa stanno dicendo? Cosa stanno dicendo? Qui c'è un'altra luce. E stiamo usando una canzone rallentata dal 50%. Così dopo velocizza tutto, visto che è un extra beat che fa paura. È vero? Più piano la luce. È verso l'alto, raggio piccolo. Stai troppo fermi, spingetelo, spingetevi. No, senza far sta cazzata. Psycho Prod's on the beat. Pedro, fuck law, let's go, let's go. Pischi, fate robbi, stoppi, questo lo intuisci. Spalloli ma non finire, faccio tutto da abolire. Ho scritto finestra, foglie, maratine, torno, prolevo no. Mettimi a terra, ma sono nella selva, dove la piera è smarrita. E' caduto il pane. E mangia, tanto le mattonelle ti piacciono.